Mamma, che piove che viene! Vuoi un tè per scaldarti? Sì, magari! Che biscotti sono? Biscotti da un zuppo! Vieni qui con noi! Con quel cappello mi pare un pescatore! Ma quante date hai pescato stamattina? Lique! Scegli anche tu i nostri biscotti da inzuppo per far risplendere la tua giornata!